Siamo pronti con la gara, via la musica! 14 anni i cavalieri di questa coppia, ballano insieme da 8 anni. Ragazzi, ancora per poco? Per pochissimo, l'anno prossimo. Sono già dei giovani. Ecco il picchio picchio con pendolum. Questo è il picchio picchio? Picchio picchio! Sono campioni italiane combinata a 10 valli. Ed ecco il nostro lupus che ci segnala il cambio. Grazie ai ragazzi e diamo spazio ai giovani. Penso allora che questo ballo per i ballerini è come la polca per i ballerini di Liscio. È un ballo molto faticoso e loro infatti asseriscono che ci vogliono delle gambe fortissime e un cuore generoso per ballarlo. effettivamente ci sono tanti piccoli salti, sembra tutto delicato, ma è molto faticoso. Questa coppia balla insieme da 2 anni, ma i cavalieri della coppia balla da 11 anni e hanno ben 12 titoli italiani. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks like a tree. And you will see Amarillo, Calabino, Mexico, Black, and Arizona, don't forget when I'm a human, but no stand by. And you don't want you to get in to the time. Cambio! Grazie! È il momento degli adulti! Anche gli adulti ballano insieme da 2 anni. Sono campioni regionali 1995-1996. E ricordiamo che le dimensioni di questo palcoscenico sono veramente insufficenti. Infatti queste povere Bajour con il quick step ne hanno viste di tutti i colori. ecco le polchette cambio, grazie quarta coppia per il big step, signore naturalmente la categoria signore si serve per quanto riguarda il ballo certo infatti loro hanno 37 anni quindi da 2 anni che ballano in questa categoria ballano insieme da 4 anni, sono campioni italiani 1995 ricordiamo anche quanto ballo nasce nel 1912 dal one step e two step e in Inghilterra gli hanno dato il nome di quick step giustamente così veloce anche perché questa velocità ha tolto quell'aura camminosa che invece veniva data a tutti gli altri complimenti complimenti chiamiamo qui tutte le coppie per quanto riguarda il mio amore